Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Anche oggi video a cheppi in fiume Mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Superiamo i 100 like anche per questo video E quindi oggi vi andrò a raccontare la fine della giornata a cheppi finalmente Ci sono voluti 3 video, ci siamo divertiti veramente un sacco I pesci ovviamente non sono mancati C'è qualche chicchetta in video che veramente merita Dunque ragazzi direi di non perdere altro tempo e via con il video Ciao 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 Oh Prisa Bella Guarda Ciao 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 mollato un po' di carna questo che chiesa buona pesca ok presa 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 ciao mi raccomando ragazzi like qua ne voglio avalanghe e che pesci così belli in uno spot del genere possono accompagnare solo il like ok vai un attimo vai vai uh uuuuh eh sei una bis qua 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 in giro che più aria ciano che più aria uh 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 presa 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 a che più aria stai tenendola anche la canna si si pazzesco pazzesco stai 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 pinza dove va tu? io sto simpatico ehi ehi ecco 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 eccole qua uh queste sono grosse esercito cio even queste sono né le Lords le o le o le eccola qua oh il branco ce ne viene una trio ho sentito qualcosa forse i'm ok i'm ok presa fish on combattiva bella 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 ascolta fammi un piacere mi fai una storia mi fai un video in verticale e anche delle allora no 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 fai un primo una foto oricontale allora i video pubblichi quando finiscono la storia si 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 fai fai una foto torna in acqua è anche toccata praticamente presa bella 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 teniti basso fallo affondare no ho avuto una cacciata adesso andiamo comunque bravo fermo non sono riuscito a vedere l'attacco ma ho visto appena la presa perché sono invisibili soprattutto questo venticello qua che copre tutta l'acqua fare un paio di modifiche eccolo la l'ho vista no si è slamata mi ha tirato via la canna ultimo pesce di giornata ultimo gocciolo di batteria a 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 Grazie a tutti.